In questi anni i disagi sono stati causati soprattutto dal mancato completamento della Fondo Valle Sangro. Il tratto incompiuto tra Sant'Angelo del Pesco e Quadri da sempre costringe gli automobilisti e camionisti ad avventurarsi sulle tortuose curve della strada provinciale 88, ma questo è niente rispetto a quanto potrebbe accadere tra meno di un mese. L'amministrazione provinciale di Sernia ha infatti emesso un'ordinanza che vieta i veicoli con carico superiore alle 7 tonnellate e mezzo di passare sulla variante. Questa bretella è stata realizzata qualche anno fa dall'amministrazione provinciale di Sernia per evitare che ogni giorno decine e decine di tir passassero nel centro abitato di Sant'Angelo del Pesco, ma ora non ci sono più i soldi per la manutenzione e dal primo agosto neanche da qui i tir potranno passare. Il continuo passaggio dei mezzi pesanti, in particolare quelli che si spostano tra la Sevel della Val di Sangro e la Fiat di Pomigliano, lentamente stanno mettendo a rischio la tenuta della strada. L'asfalto comincia a cedere in diversi punti, ma i soldi per metterla in sicurezza non ci sono. Per questo l'ente di via Berta, salvato dalla Corte Costituzionale, ma non dalla grave crisi di liquidità, ha deciso di emettere un'ordinanza che sta sollevando un mare di proteste ancora prima di entrare in vigore. Il problema per i camionisti è serio. Le strade alternative sono la Trignina e la Statale 17. Si passerebbe cioè per Isernia o per Sulmona, allungando il percorso in alcuni casi anche di 80 chilometri. Ma i sindaci e trasportatori della zona, in particolare quelli del versante abruzzese, non accetteranno passivamente questa novità. A breve chiederanno l'annullamento dell'ordinanza. In caso contrario sarà proposto un ricorso al Tarmolise per interruzione di pubblico servizio.